Io sono contento che ci sia stato anche lui in questa vittoria e sia risultato decisivo anche in due o tre occasioni facendo dei gol importantissimi. Penso che anche lui se lo meritasse insieme a me, come se lo meritavano Chiellini, Marchisio che avevano sofferto tanto Le Ceglie. Se posso menzionare qualcuno mi piacerebbe dedicare questo scudetto anche a Camoranesi, a Trezeghe, a Pavel Nebel che insieme a noi avevano provato i primi anni a ritornare grandi e vincenti ma purtroppo non ce l'avevamo fatto. È un ricordo anche speciale anche a un ragazzo che è stato con noi due o tre anni, che è Brazzo Saliamigis, che veramente in questi due o tre anni nonostante non abbia lasciato magari dei ricordi impressionanti nel mio cuore rimarrà sempre perché ho conosciuto un vero campione. Vedendo allenare lui ho capito come mai ha fatto una certa carriera e lì fatti l'altro giorno gli ho detto, questo scudetto è anche merito tuo perché mi ha insegnato molto, non pensavo di avere molto da apprendere o da imparare dai miei compagni. Ho appreso veramente tanto anche da lui.